Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video molto speciale, infatti in questo video vi farò vedere come installare Cydia funzionante sul vostro iPhone 4 con iOS 7 jailbroken. Iniziamo subito! Bene, prima di cominciare però ci tengo a fare tre premesse. Prima premessa, questa versione di Cydia, ossia la 1.1.8, è ancora in fase di prova, di conseguenza è veramente molto instabile e presenta alcune imperfezioni grafiche. Seconda premessa, molti pacchetti all'interno di Cydia non supportano attualmente iOS 7, quindi non vuol dire che se avete Cydia avrete la libertà assoluta di installare tutti i pacchetti possibili e immaginabili, perché come vi ho appena detto, molti di loro non supporteranno iOS 7, almeno per il momento. Terzo, a causa di alcuni bugs interni, ogni volta che si esegue l'installazione di un pacchetto bisognerà eseguire due riavvii usando il boot Tetrad di OpenSnow per far sì che esso funzioni correttamente. Detto questo, non perdiamo tempo e iniziamo con la guida. Vediamo tutto l'occorrente, come prima cosa ci servirà il nostro iPhone 4 con iOS 7.0 o 7.0.2 jailbroken, quindi prima di seguire questo video dovrete eseguire il jailbreak del vostro iPhone 4 con iOS 7. Se non sapete come fare potete cliccare su questa annotazione e verrete riportati a un mio video tutorial in cui spiego come eseguire il jailbreak del vostro iPhone 4 su iOS 7, perché è fondamentale. Prima quindi eseguite il jailbreak, se non l'avete ancora fatto, e poi potrete continuare a seguire questa guida per installare Cydia. Quindi una volta assicurati che avete il root e l'SSH installato sul vostro iPhone 4, continuiamo con l'occorrente. Ci servirà iPhone Box, un programma scaricabile gratuitamente da internet, vi metto il link in descrizione, e il terminale del Mac, il quale è già incluso in OS X. Infine vi servirà un pacchetto zip creato da me, che vi metterò il link di download in descrizione, e l'ho chiamato debsupport.zip. Dentro troverete tutto l'occorrente per installare Cydia. Detto questo, iniziamo con il tutorial. Prima voglio però mostrarvi che andando su Impostazioni, Generali, Info, sul mio iPhone 4 monto iOS 7.0.2. Quindi questo video non è un fake, ma è assolutamente reale. Spostiamoci quindi sul computer e vediamo cosa fare. Come vedete, ecco qui la cartella debsupport, che si troverà all'interno dell'archivio, che vi lascerò in descrizione, e all'interno troverete questi due file, precisamente la cartella var e il codice per installare Cydia. Mettiamo un attimo la cartella da parte e apriamo iPhone Box. Una volta aperto questo programma, vi lascio il link per scaricarlo in modo completamente gratuito da internet, clicchiamo su file di sistema iOS, ovviamente il nostro iPhone 4 deve essere collegato al computer via cavo. Ora apriamo la cartella var e se al suo interno ci sono le cartelle cache e lib, queste due cartelle cache e la cartella lib, dovremo cancellarle. Se non ci sono, non fate nulla. Però se ci sono, dovrete cancellarle. È veramente molto importante. Una volta cancellate, andate nella mia cartella debsupport, aprite la cartella var e spostate le cartelle che trovate nella mia cartella all'interno dell'iPhone 4, perché queste sono quelle giuste. Voi, molto probabilmente, avevate quelle sbagliate. Bene, ora potremo chiudere iPhone Box, potremo chiudere anche la mia cartella di supporto, e passiamo un attimo all'iPhone, perché dovremo recuperare l'indirizzo IP della nostra rete Wi-Fi. Quindi, dovremo andare su Impostazioni, dopodiché andare su Wi-Fi, e toccare questa piccola I che sta per Informazioni. E qui, la prima scritta, come vedete, sarà il nostro indirizzo IP, che nel mio caso è 192.168.1.67. Voi segnatevi questi indirizzi IP su un foglio di carta, perché ci servirà ora al computer. Infatti, dovremo aprire come prima cosa l'applicazione CyberDuck. Anche questo è un programma che si trova gratuitamente su internet, e vi lascio pure il link di download in descrizione. Premere il bottone Nuova connessione. Selezionare qui SSH, trasferimento, file sicuro, SFTP. Questo protocollo qui dovremo selezionare. Su Server mettete il vostro indirizzo IP, quindi quello che vi siete segnati prima. Quindi io metto il mio, 192.168.1.67. Come porta mettete 22, nome utente mettete root, e come password dovrete scrivere alpine, tutto in minuscolo. Una volta messa la password, premiamo collegamento. Ci metterà un po' di tempo, io ora ho velocizzato la parte, però starà qui circa sui 20 secondi in totale. Ma dopo un po' di secondi, appunto, comparirà questo avviso, ed è fondamentale, ragazzi, premere su sempre. Una volta premuto su sempre, mi raccomando, cliccate per metti. In questo modo abbiamo aggiunto la key del nostro iPhone nelle connessioni permesse dal nostro Mac. Quindi ora CyberDuck non ci serve più, lo chiudiamo. E tra le altre cose vi dico che se non vi compare quell'avviso, vuol dire che quella key è già inserita e quindi siete a posto. Comunque una volta fatto, ora dovremo aprire il terminale, che è un'applicazione che è già inclusa in tutti i Mac. Per chi non lo sapesse si trova all'interno della cartella applicazioni e poi all'interno della cartella utility, trovate il terminale. E digitiamo ssh spazio root chiocciola e qui dovremo inserire l'indirizzo IP, sempre quello che vi siete segnati prima su un foglio di carta. Quindi in questo caso 192.168.1.67, invio. Come vedete ci chiede la password, che noi dovremo inserire sempre quella alpine. Mentre scriviamo sulla tastiera non si vedrà niente sullo schermo, ma in realtà starete scrivendo. Quindi scriviamo alpine e premiamo invio. E una volta dato invio, saremo entrati in ssh. Ora aprite la mia cartella deb support, aprite il file codice per installare Cydia. Al suo interno troverete questa stringa di testo che voi dovrete copiare tutta, in questo modo, tasto destro copia, e incollarla così com'è nel terminale. Tasto destro incolla. Una volta incollata, premete il tasto invio. E una volta premuto il tasto invio, partirà il download e l'installazione di Cydia e i pacchetti necessari. Ci metterà un bel po' di tempo, io ora ho velocizzato la parte, ma in realtà ci metterà circa 5-7 minuti. Quindi aspettiamo che finisca. Una volta finito il vostro iPhone 4 si riavvierà, come potete vedere. Però essendo questo un jailbreak tethered, non appena comparirà il logo di Apple, come ora vedrete tra un attimo, si bloccherà in recovery mode. Quindi ovviamente dovremmo riavviarlo usando la funzione boot tethered, che ho ampiamente spiegato nel tutorial precedente su come eseguire il jailbreak. Quindi se non sapete di cosa sto parlando, andatevi a vedere il video. Quindi eseguite un riavvio tethered del vostro iPhone 4 e una volta giunti alla lock screen, sbloccatelo. E come vedete, se svolterete pagina, troverete la nuova applicazione Cydia. Guardate, eccola qui, la apriamo. Aspettiamo un attimo che si carichi. Ignorate questo errore che tanto è falso. Qui vi consiglio di mettere utente, fate fatto. E una volta cliccato su fatto, è importantissimo aspettare e lasciar finire questa barra nera. Quindi ora velocizzerò la parte e aspettiamo che finisca. Mi raccomando, è fondamentale non cliccare su annulla, perché se no Cydia sarà vuoto. Dobbiamo aspettare che la barra nera finisca e scompaia da sola. Ok, ha finito, sta aggiornando i dati. E ci chiede subito di fare un aggiornamento. Quindi facciamo aggiornamento completato. E ora premiamo conferma. Ora clicchiamo su forza rimozione insicuro, ma tanto è sicurissimo, state tranquilli. E una volta finito, ritorniamo a Cydia. E avremo finito ragazzi, avremo installato Cydia in modo completamente funzionante su iOS 7.0.2 sul nostro iPhone 4 jailbroken. Come vedete infatti iPhone 4 GSM, iOS 7.0.2, Cydia 1.1.8+. Quindi detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi su Twitter e su Facebook. Mi raccomando, condividete il video. Per me è veramente importantissimo, perché non tutti, anzi molti pochi, sono a conoscenza di questo modo per installare Cydia. Quindi condividete questo video il più possibile. Iscrivetevi al mio canale. Un grande saluto. Ciao a tutti! Ciao a tutti!